M-35 è un ammasso aperto situato nei gemelli ed è uno degli ammassi aperti più belli. Esso comprende circa 200 stelle, tutte al di sotto della quattordicesima magnitudine. Utilizzando un basso ingrandimento, con oculare a largo campo, vicino a M-35 sarà osservabile un altro ammasso aperto. NGC 2158 NGC 2158 sarà risolvibile in stelle solo con un telescopio da 250-300 mm. L'aspetto di NGC 2158 è quello di un ammasso globulare un po' sparso e simmetrico.